Se mi seguite durante le meditazioni che vi offro sui miei canali social avrete notato che ogni meditazione inizia con il portare l'attenzione sulla respirazione. Non è un caso. La respirazione consapevole agisce come un vero e proprio massaggio sui nostri organi e inoltre ci aiuta anche a disintossicarci, a lasciare andare via le credenze limitanti, pensieri limitanti e a trovare serenità e benessere. Per questo la utilizzo in ogni meditazione per mettere a tacere la mente e tutti i suoi rimugini. Quindi per oggi durante la giornata ricordati di fare qualche respiro profondo, meglio ancora se porti la respirazione nella pancia come bambini appena nati, quindi che gonfiano e sgonfiano mentre respirano. Di solito lo stress fa respirare dalla parte alta del petto, una respirazione di petto. Quindi dona calma al tuo corpo attraverso una respirazione consapevole nell'addome. Personalmente quando ho scelto di imparare a cambiare la mia respirazione ho iniziato a mettere dei post-it colorati nelle zone della casa dove passavo più spesso in modo da riportarmi con l'attenzione sulla respirazione e se ti piace puoi anche tu usarlo come strategia. Quindi riassumendo per oggi respira consapevolmente e impara a respirare di pancia. Ci vediamo domani con l'esercizio del giorno 17. A domani!